ciao a tutti biscottini e biscottine eccoci qui con un nuovo what I eat in a day per colazione un bel bicchiere di limonata fatta in casa da me vi lascio la ricetta un kinder pinguì e una pera di quelle piccole e vi comunque vi dico che ne ho mangiata anche un'altra anche se non l'ho ripreso per pranzo risotto allo zafferano anche di quello vi lascio la ricetta io adoro fare i risotti e questo è uno di quelli che mi piace di più fare e mangiare e per cena spezzatino con le patate in umido so che non è un piatto propriamente estivo ma ne avevo una voglia matta quindi spezzatino patate sugo insomma vi lascio anche di questo la ricetta da cliccare per per accedervi prossima settimana a quasi al cento per cento invece vedrete una video ricetta perché la registro nel weekend e nulla non ci vediamo alla prossima lasciate un like se il video vi è piaciuto e ciao ciao mua 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 Grazie a tutti.